Infatti io sono rimasta sconcertata dalla requisitoria del Procuratore Generale e mai mi sarei aspettata una cosa del genere. In effetti più che requisitoria è stata una ringa difensiva a favore degli imputati. Se dovesse passare una cosa del genere, se la Corte dovesse recepire una richiesta del genere potremmo chiudere i battenti ad uno Stato di diritto. Perché secondo lei questo cambio di scenario in una vicenda giudiziaria che sembrava ormai già definita? E' incredibile anche la posizione del Procuratore Generale. La Procura che ha istruito dall'inizio questa vicenda si è più volte contraddetta e ha più volte cambiato direzione. Anche questo mi lascia incredula. Ecco, praticamente nell'intervento del Procuratore Generale ieri sono state annullate, sono state smantellate le due sentenze di primo e secondo grado. Sì, le sentenze, la perizia del dottor Maiese, cioè di tutto e di più. Non le dico che cosa vi aspettate, perché è una domanda sicuramente scontata. No, assolutamente, a questo punto non sappiamo proprio di che morte moriremo. Dobbiamo soltanto aspettare. Sì.